Grazie Don Soci per questo invito a commemorare un lustre socio straniero della vostra ma anche nostra accademia. Ecco, bene, grazie. Le commemorazioni sono chiaramente dei commenti anche di tristezza, però sono anche occasioni di qualche riflessione storica e anche qualcosa di piacevole ricordi. E naturalmente io considero come veramente memorabili le commemorazioni di tre soci, tre tuvidesi, Colonnetti, Cicala e naturalmente Levi, che ho avuto l'opportunità di conoscere tutti i due, molto brevemente. Beh, anche Zinkiewicz ritengo meriti la gratitudine della comunità scientifica internazionale. Di Zinkiewicz molti hanno già dei ricordi, ma credo che parlando brevemente di lui c'è anche un'occasione di una riflessione sull'ambito disciplinare in cui era stato maestro. Permettetemi di ricordare questa, beh, questa è l'immagine di Zinkiewicz già posto anziano, e ha detto la sua domanda, ma frittuosa e produttiva. Al Politecnico nel 2001, Laura Noriscausa, ecco, beh, perché ho ottenuto il latino, questo è l'audazio, noi la cattedrica diciamo, come Preclarus Magister, la carica computazionale, e Sumus Sacerdos, degli elementi finiti. Beh, sono un po' di esagerazioni forse, però direi che sono beneditate. Ecco, se guardiamo un po' la sua carriera, ecco, questa prima attività da giovane in Inghilterra, ecco, stimolata da una situazione ingegneristica, che ha portato, almeno in Europa, un primo adozione, per il vetro degli elementi finiti, con quella semplice modellazione, sui triangoli, diciamo, del campo degli spostamenti, però già 900 incontri nel 1963. Ebbene, nella storia della scienza delle costruzioni, c'era questo antecedente, di cui Zinkevich non era il corrente, era il precedente, in California, anzi, c'era già avviato a Burry un'attività verso la soluzione numerica e dei problemi elastici lineari con Bluff, con Burry. Ecco, e dando uno sguardo alla storia di questa metodologia degli elementi finiti, che è oggi giorno importante dell'ingegneria, diciamo, ecco, possiamo pensare anche all'interdicinarietà di questo campo. Da un punto di vista matematico, credo che si possa dire che le radici lontane stanno nei grandi, che si sono occupati, le azioni differenziali e interparziali, però, nel calcolo delle variazioni, con le proprietà razionali, però, pensando anche a qualche soluzione di specifici problemi. Ecco, Ritz, che ho vissuto 32 anni, sono un genio, e Galerkin, che poi è diventato, per esempio, la generale, quindi ho messo gli eti, con tutto le vittime guerra, da giovane, con Ritz, ecco, avevano molto riflettuto e su aspetti che possiamo, diciamo così, includere in questa vasta area. E tra i matematici, però, ci fu questo episodio, durante la guerra di Curran, di Curran, di Curran, diciamo, a New York, ma già negli Stati Uniti, che, in effetti, studiò un caso di torsione proprio per elementi finiti con questa suddivisione in triangoli, ecco, ed ebbe anche, pur essendo un matematico puro, per un po' che ne so, ecco, c'è anche questa citazione sulla matematica, ecco, che leggiamo lì, che è, sì, comunque, un insieme di contattazione teorica e ogni applicazione, poi, non risulta. E questo fu ignorato, però, per molti anni. Se guardiamo un po' altri ambiti, ecco, a me, però, veramente, vorrei citare questo torinese, ovviamente, insomma, il grande logico di questa accademia si era espresso richiamando l'attenzione sulla opportunità che la matematica sia connessa con problemi pratici, ovvio, scusate. Ecco, con anche quest'altra citazione, le teorie matematiche siano coronate dal calcolo numerico. Quindi è un po' una previsione, forse, già di ciò che può. Dal punto di vista meccanico e ingegneristico, se si può andare molto indietro, vede, anche Barretti e Serpenan, aveva prestato attenzione a formulazioni in modo da poter ottenere funzioni numeriche. Però, un passo si pesce all'inizio del secolo scorso, con le differenze finite, Richardson, che anche lui, è meglio in terra, era incaricato di esaminare, diciamo, una diga ancora, differenze finite, e non solo, ma c'è una piccola curiosità, che la parola computers sembra che sia usata da Richardson ed era il termine che dava agli studenti di scuola media che aveva argolato per fare dei calcoli. Ci sono anche il numero di stermine, diciamo, che dava. Però, insomma, a parte questo, poi, beh, credo che tutti, diciamo, che ne ricordano, a volte il popolare, il metodo di Cross, diciamo, come un rilassamento, come questi vincoli fitizi che servono di volta in volta, di tutto il numero che vedono. Ecco, e poi, possiamo anche citare un altro caso di discretizzazione, diciamo, di un problema che ricordava le piastre e che Renikoff concepì come una specie di gratticcio di travi. Ecco, e poi, naturalmente, l'altro ingrediente che portò a questo grande sviluppo del netto in merce dei venti infiniti è, ovviamente, il calcolatore, computer, che in termini di me ne vi avete nel senso attuale, Arugia Iris, che fu un altro guru, diciamo, degli eventi finiti sia in Germania che anche in Inghilterra, ecco, beh, è una piccola citazione, è questo che, ecco, insomma, il ruolo dei calcolatori e poi, tutti conosciamo questa legge di muro e questa espansione che effettivamente è stata esponenziale, diciamo, ecco. Dal punto di vista proprio della meccanica e dell'ingegneria, guardando un pochino indietro, diciamo, pure quando Zikiewicz iniziava le sue veramente prodigiosi attività di cerca, ecco, possiamo citare che l'ha già citato per quell'anticipazione di applicazioni mentre gli eventi finiti, Ergairis molto stimolato anche dal dopoguerra, da varie istruzioni politiche anche del dopoguerra, dell'Urbea e 10, ecco, veramente si può attribuire dei contributi molto significativi come quelli degli approcci misti, quelli dell'utilizzo anche dell'energia complementare, ecco, questo della pubblicità di approcci Gallagher soprattutto con Zinkevich sia una propagazione di primi volumi, il primo veramente perfetto da Zinkevich con questo cinese Cheung, ecco, Ions che è molto in Italia giovane a Suomzi come il collaboratore di Zinkevich e negli anni 60 e 70 forse a metà del decennio del 70 pensiamo e molti stimoli vennero dalla tecnologia aerospaziale ma anche dall'ingegnere civile e poi altri ambiti e se un momento riflettiamo su cosa possiamo veramente attribuire a Zinkevich mi scuso brevemente questo è un po' è così per un momento di riflessione con i colleghi che operano della meccanica applicata ecco a Zinkevich credo che si debba dico personalmente con i giovani che lavoravano con lui a Suomzi in particolare ecco la sua parte scientifica ecco che si possono citare per quanto adesso insomma dall'uso di elementi infiniti non più triangoli tetraedi diciamo ma con funzioni a grado maggiore e poi di nonche poi questo importante aspetto della quantificazione dell'errore attraverso norme di differenza che insomma erano anche orientative sulla rimodellazione della mesh per elementi finiti diciamo in strutture complesse poi molta attenzione a questo che chiamava discontinuous procedures che ricordavano infatti sia interfaccia che fratture meccanica della frattura dal punto di vista computazionale e poi molta attenzione dedicata alla migrazione dei busci come vediamo gli struttori e poi però Zinchievice e il suo gruppo contribuendo molto all'estensione del metodo dell'utologia e degli eventi infiniti anche licitati insomma in particolare alla fluidodinamica ma anche agli espositi intromagnetici ecco e dobbiamo ricordare credo anche il contributo alla direi volgarizzazione ma certamente alla diffusione della cultura in questo campo di meccanica computazionale il primo libro con quel suo collaboratore cinese ma poi è un libro popolarissimo come Bob Taylor Rob Taylor per tre attualmente e poi a Zinchievice dobbiamo anche attribuire delle iniziative diciamo tuttora di attualità come quella della fondazione dell'internation association of communication che continua a fare grandi congressi e quindi alimenta diciamo le collaborazioni le interazioni poi quello che era la prima rivista specifica di international numerical method engineering tuttora ma adesso ce ne sono tante e poi vabbè citiamo che insomma in tante editorie al borsa presente Zinchievice ecco queste piccole immagini prese da sue pubblicazioni visualizza un po' quello che va veramente a lui accreditato e cioè quel metodo che ho menzionato prima cioè di densificazione nella mesh lì dove c'è maggior sia importanza tecnica di conoscere stato tensionale ma anche per poter lì dove c'è una maggiore rapida variabilità nello spazio delle quantità che andiamo a cercare di attenzare a refare la mesh antropia del sarranì con dei vantaggi notevoli sull'onere di calcolo che poi la soluzione del problema comporta ecco e beh molta attenzione c'è tra l'altro reattori nucleari dell'ambiente di sponsi cioè il gruppo intorno a zinchieri direttamente e qui di nuovo in questa ricca risoluzione si vede il passaggio da originari scusate da originari da originari elementi finiti semplici con funzioni in forma lineare a quelli più complessi poi isoparamessi nel senso che sia raggiunti della mesh sia anche funzioni diciamo però ecco c'era anche questo piccolo dato numerico diciamo che si poteva passare praticamente a parità di 10.000 gradi di libertà a 2.000 e a parità di accuratezza degli dati ecco questa immagine qui ci ricorda quello che Zinchieri ci ha lasciato insieme a Taylor che ha citato già prima come una specie di diciamo scherzosamente una specie di bibbia dell'albobento insomma ecco in che adesso ha più volumi ecco e in copertina si vede male però in copertina appare anche simbolo quasi di quell' estensione del metodo con contributi anche veramente dovuti a Zinchieric verso la fluidodinamica verso l'interazione fluido struttura con gli spati di insomma eccetera che rappresentò un'area di interesse industriale ma anche ecco venendo brevemente così a qualche immagine della sua vita qui ricorderei che di tutto rato un riscaus a Zinchier mi sono stati assegnati come dette qui 28 e 15 lesi è un episodio può essere tristato da queste immagini qui che non è venuta però giurina semplicemente in cui vabbè la rovia l'academia e Zinchieric attraverso il principe finito con sé che dà la volder mera più alta con efficienza diciamo sempre poi bene questo è un'immagine del nostro lettore diciamo quando abbiamo dato la rincausa al Politecnico e però possiamo ricordare che il socio dell'academia di James Trombardo è anche il socio straniero della per questa nostra accademia prestigiosa in Italia su un numero di meccanica Zinchieric pubblicò un articolo che è abbastanza così di tipo come dice il titolo ma dove andiamo a finire insomma con la meccanica computazionale qui ho preso qualche citazione che un po' ci fa meglio capire il suo atteggiamento diciamo nei confronti della ricerca scientifica ecco questo di richiamare l'attenzione sui fundamentals ecco in certo senso l'azione tra i meccanici che devono descrivere i componenti materiali diciamo dell'azione materiale e gli analisti numerici ecco che poi devono usare queste informazioni per analisi di strutture quindi vi permetto ecco una citazione da un altro lavoro di Zingiewicz è ancora un ammodimento diciamo per tutti noi della comunità internazionale che richiama ecco la 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 di Pisa diciamo che ha un tortorino naturalmente ecco dei contributi per il restauro ecco oppure una componente e bene questa questa frase che diciamo insieme Zingiewicz diceva attenzione a non fissarsi solo sugli metri numerici ecco ma è venuto a comprensione dei materiali e degli analisti numerici ecco in questo senso un altro personaggio che ha interagito senza collaborare però sui metri infiniti ma era un po' uno stato comprare della plasticità in anni precedenti agli anni 60 70 60 50 forse ecco l'abbiamo letto questo ecco di greater desire content di better design will be e questo era ecco anche per così scusate ma forse ho citato proprio questa parola di Zingiewicz in un tipo stupid predictions perché era un tipo simpatico che piaceva anche un po' scherzare diciamo e qui citava degli errori per ammonire chi oggi guarda il futuro di essere tostocauti e lì citava quello che diceva che c'era il romano se poi anche nelle 40 anni e c'era c'era in l'indicazione e anche questo un po' più recente diciamo di Bill Gates che parte di prossimo va al summit delle accademie di ingegneria e qui il sovacchino Weitz dice c'è preparato sarebbe in altra mentre ecco Zingiewicz aveva anche questa così un po' diciamo abitudine a scherzare un po' e adesso seguiamo un'occhiatina un po' alla sua diciamo così carriera e so brevemente ecco vorrei anche ricordare comunque che c'è qui sta scritto che la madre invece il padre era giudice a Catolizia vicino a Sabia ecco e nel 39 Zingiewicz corrette proprio la Sabia durante l'inizio della nazionale nazista e poi erano già diciottenne e poi come padre e madre venne in Italia per fuggire dalla situazione che si era creata nella Polonia occupata riuscì a venire in Italia per poi andare come chi era nudissimo nell'Inghilterra dalla parte della madre dopodiché qui ho elencato un po' il suo era Imperial College con Southwell quello che avevo già citato prima è diventato allievo di Southwell e quindi differenze finite ecco diciamo però dopo fu un ingegnere per questi anni di una vita di di per cui ho avuto sempre una passione diciamo in un certo senso ecco e con un breve soggiorno anche negli Stati Uniti al nord-west ma poi questo quasi mezzo secolo diciamo a università di questo suonso 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 in terra ma ecco aveva anche anche qui per parecchi anni questa cattedra mi sembra sia quasi unica supportata dall'UNESCO nel centro funzionale di meccanica numerica a Barcellona ecco come questo se vi consentite prima di finire vorrei anche bene ricordare la presenza di Zinchievic già qui anziano 2000 in tanti questo è parte delle maitighe anche studioso dire ben definito questo nostro della nostra comunità però consentitemi anche di proiettare qualche immagine con Enel la sua moglie e qui anche con la figlia e scusate ecco con i nipotini perché aveva una vita familiare anche che un quarto ne posso capire ovviamente da lontano piuttosto intensa ecco con un figlio che era l'archeologo di un altro archeologo molto curato studioso dell'architettura romana nel sud della Cammertana ecco consentitemi a questo questo è l'incendio insomma ecco questa immagine per chiudere io vorrei anche per scusare un po' perché forse ho venuto un po' troppo su questi ricordi ecco che vorrei così insomma come dire chiudere con queste citazioni che un po' giustificano le commemorazioni ecco questo dello sguardo al passato a quel senso di questa frase che mi capisco trovato il suo nome ecco e forse la conclusione di questo mio scorsetto non è subufficiale può essere questa citazione da seria che dice appunto vorrei chiudere dicendo che spero che anche queste poche parole su Zingiewicz un po' ne facciano sentire un po' la presenza della nostra comunità come se fosse un pochino con noi ecco grazie grazie